Era un gentiluomo di un tempo eterno ed un esempio permanente, chiamava l'Abruzzo Germano De Cinque. Viene ricordato così da molti che lo hanno conosciuto, il notaio, il politico, già senatore e sottosegretario della democrazia cristiana. De Cinque è morto giovedì scorso, 25 luglio, a 83 anni. Una folla, composta e commossa, gli ha reso maggio e in tanti si sono stretti al dolore della moglie Giulia Lamorgia, della figlia Marianna, del genero Filippo Guastella e della nipote Giulia Maria, sia nella camera ardente allestita nella sala consigliare della provincia di Chieti, ente del quale De Cinque è stato presidente dal 1970 al 76, sia nella cattedrale di San Giustino, dove Monsignor Nerio Di Sipio e Monsignor Angelo Vizzarri hanno concelebrato il funerale. In molti ne hanno elogiato la grande figura di professionista, politico e amministratore nel panorama locale nazionale, tra le migliori figure di un Abruzzo che poteva contare su grandi personalità. Un uomo delle istituzioni, profondamente onesto e trasparente, che si è prodigato per l'industrializzazione della Val di Sangro ed ha contribuito alla nascita dell'Università d'Annunzio. Lo ricordano così il vicepresidente uscente del CSM e consigliere regionale Giovanni Legnini ed Antonio Menna, ex consigliere regionale dell'Udc, il quale ha detto che è stato un maestro di vita, un esempio per tutti i giovani democristiani della sua generazione. È stato protagonista indiscusso negli anni decisivi per lo sviluppo della nostra regione, della nostra provincia. in quel ventennio 76, metà anni 90, che segnarono la fuoriuscita dell'Abruzzo dalle regioni arretrate. Un testimone attivo, partecipe della vita pubblica, anche dopo aver cessato il suo incarico istituzionale, il suo mandato parlamentare. In questi ultimi 25 anni lui non ha mancato di darci, di darmi a tutti quanti noi consigli, incitamento, sostegno. Manu era uno di quegli esempi proprio di correttezza, di uomo di partito, era un uomo delle istituzioni, ma era soprattutto una persona trasparente, onesta, sincera.